Anche su questo poneva dei problemi abbastanza forti, che sono attuali, si opponeva, quindi era contro la globalizzazione, quella selvaggia, e nello stesso tempo si poneva in mezzo, perché era contro poi uno global, che vi chiamava bambocci racondi che strillavano. Quindi anche questo, il problema demografico ritorna, come dicevo, ritorna sempre, in un tema che insisteva molto.